Crolla parte del soffitto e l'ufficio sanitario marittimo di Viereggio che si trova nel palazzo in fondo a via Paolina davanti al porto resta chiuso ormai da troppi mesi. Non si placano le polemiche, alimentate da centinaia di marittimi e pescatori, costrette a recarsi a Livorno per usufruire dei servizi della cosiddetta Cassa Marittima per le attività legate al personale delle imbarcazioni, tra cui il rilascio di certificazioni mediche pre-imbarco, visite di controllo e mediche, pratiche di malattia, certamenti strumentali e non solo. Ci rammarica constatare che ancora una volta ci ritroviamo a riportare criticità relativa a certi uffici pubblici di Viereggio, città portuale, spiega Claudio Tomei del sindacato del mare. Gli uffici di sanità marittima infatti sono strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute, dislocate sul territorio nazionale. Secondo i bene informati il personale dell'ufficio versiliese risulterebbe già trasferito a Livorno, tanto che sulla porta dei locali in via Paolina i riferimenti rimandano proprio alla sede Labronica anche per quanto riguarda le visite mediche. A sollevare il caso è stato il gruppo consigliare della Lega prima in regione, poi in consiglio comunale a Viereggio, tanto che nell'ultima seduta l'assemblea pubblica ha approvato alla unanimità la mozione firmata dal consigliere della Lega Alberto Pardini relativa alla riapertura dell'ufficio sanitario marittimo territoriale di Viereggio, chiuso dallo scorso settembre senza alcuna informazione in merito alla sua riapertura.